Riesci a placarmi l'anima solo con una frase e poi seguita da un'altra ed io non so come a ringraziarci, siamo così lontani di tempi, di spazi, di età eppure non perdo mai la speranza, non la perdo mai e poi vedo che ti illumini nel viso, vedo e sento arrivare quasi il tuo sorriso e la tua voce, sento ancora le tue braccia, nelle prime carezze arrivate ed io mi stupivo, non capivo, attendevo le mie, stavo quasi per pensarmi pazzo, o eri sulla pazza, oppure non è una cosa così normale incontrarsi, sentire la stessa musica, sentire lo stesso animo che possediamo, come si fa, quale intuizione gigantesca all'animo di una donna, quale? Me l'ho chiesto da tempo, io che forse ho accettato quelli che mi inseguivano e non quelli che silenziosamente avrei tanto desiderato. Grazie a tutti.